ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video del tempio oggi prepareremo il tiramisù ma un tiramisù senza l'utilizzo delle uova ci servirà del caffè zuccherato della panna montata i biscotti savoiardi della ricotta che avrete precedentemente setacciato la scorza di un limone e naturalmente lo zucchero per prima cosa andremo a montare la panna montata con due cucchiai di zucchero volta che avrete montato la panna montata aggiungete qualche scorzetta di limone alla ricotta altro zucchero certamente non è un dolce tipo calorico e andate nuovamente a lavorare con le fruste quando anche la ricotta sarà pronta aggiungete la panna montata mischiate i due composti se avete la spatola è meglio comunque sempre dal basso verso l'alto affinché non si smonti il tutto una volta che avrete unito i due composti potete procedere all'assemblaggio del dolce è meglio se il caffè è freddo altrimenti il biscotto savoiardo vi si inzuppa tutto mettete uno strato di crema una volta che avrete sistemato il primo strato di crema proseguite con i biscotti inzuppateli quanto preferite voi ad esempio io lo darò anche alla mia bambina che non ama il gusto del caffè e quindi lo inzuppa malapena ma se preferite lasciatecelo un pochino di più non troppo quando lo mangiate tende tende a sciogliersi steso il primo strato di biscotti aggiungete ancora crema e poi proseguite mettete tutti i biscotti al primo tratto per lo stesso verso e con il secondo strato per il verso opposto una volta sistemato anche secondo strato di biscotti proseguite con la crema a coprire il tutto se siete bravi con la sac à poche è molto molto carino fare uno strato così e poi sopra fare i classici ciuffetti o i vari disegni con la sac à poche rende una volta che l'avrete coperto tutto mettete in frigo a volto nella pellicola riposare per un paio d'ore e prima prima di servire potrete aggiungere o del cacao amaro in polvere o delle scagliette di cioccolato come sempre il tempo vi augura che questo video vi sia piaciuto stasera ci gustiamo questo dolce ciao e alla prossima il tempio il tempio il tempio di antala stile un passo avanti